Ciao a tutti ragazzi, io sono Trapsi e in questo video vi mostrerò come iscrivervi in modo totalmente gratuito appunto alla Solo Cash Cap organizzata da Jacob, un famoso proverario di Fortnite, appunto organizzata da Jacob con Fortnite. Per prima cosa dovete andare qui su Google ovviamente e scrivere Jacob Cap, è molto di siega, appunto io questo video lo sto registrando il 30 giugno e la Cap è come vedete il 1 luglio, appunto sarà domani per me, questo video penso ci uscirà stasera, perciò poi dovete cliccare sul primo link della Epic Games, aspettate un attimo che si carica anche se il mio Wi-Fi, mentre ecco è abbastanza lento, vi dico già da ora che vi dovete prima loggare con il vostro account Epic Games, appunto con il vostro account Epic Games sul sito, io mi sono già iscritto stamattina, anzi no questo pomeriggio con i miei due account, infatti andate qui sono loggato e poi uscirà scritto qua registere, cliccate ragazzi ed è easy ed è fatta, poi basta che riavviate il gioco e vi uscirà sulla sezione competi di Fortnite vi uscirà la Jacob Cap, che è appunto una Cap in solo e quindi due di tutte le piattaforme, si sono registrati 170.000 e sarà dalle 5 fino alle 19 e ci stanno a 250 euro ai primi 10 ragazzi, quindi molto easy, spero che questo video vi sia piaciuto, iscrivetevi, lasciate like, della DraftZi è tutto, bella